Il primo Norton non si scorda mai. Anche quest'anno ho scelto Internet Security. Ovviamente è una mia scelta. Voi fate pure come vi pare. E vorrei parlare di più di come funziona bene il mio Internet Security, ma la mia parlantina me lo impedisce. Comunque funziona molto bene e va bene così. Ciao! Ciao!